Ciao donne! Grazie di essere qua! La bandiera della pace sventola sulle barche che scivolano lungo il bacchiglione. Non poteva che essere dedicata alle donne in fuga dalla guerra in Ucraina la prima libera vogata delle donne per le vie d'acqua. Un evento organizzato dalle remiere padovane per celebrare l'8 marzo portando un messaggio di speranza e di pace attraverso la voga alla Veneta. Dare una manifestazione di solidarietà alle donne che si trovano in guerra che sono in questo momento particolare, in questa situazione difficile. Domenica erano una ventina le vogatrici padovane che sono scese in acqua con le loro imbarcazioni storiche. La caorlina, la mascareta e il sandolo solcando il bacchiglione dal bassanello a volta barotto. Donne dell'associazione Rarinantes 1995, degli Amisi del Piovego e del Circolo Remiero del Bisatto di Battaglia Terme tutte insieme per lanciare un messaggio di unità. L'abbiamo dedicata alle donne che sono in guerra in tutto il mondo purtroppo che sono costrette a essere in guerra in tutto il mondo e soprattutto perché secondo me le donne sono quelle che pagano di più sia perché pagano il tributo personale perdendo i propri familiari e sia perché purtroppo sono un mezzo di possesso dei conquistatori che le violentano purtroppo. E quindi oggi siamo qui per loro.